Si dice costretta il sindaco di Alessandria Rita Rossa a revocare l'ordinanza dello scorso 29 novembre dove si vietava il conferimento dei materiali di scavo dei cantieri del terzo valico ferroviario nella cava Clara e Buona. Lo ha fatto, sottolinea, dopo i pronunciamenti della regione Piemonte, i vari pareri tecnici, le verifiche dell'ARPA e alla luce dell'incontro di ieri in prefettura. Resta la prensione del primo cittadino per il contesto ambientale di quest'area, per la quale sono state richieste centraline per il controllo delle eventuali fibre aerodisperse e l'installazione di un display. All'incontro sulla vicenda a cava Clara e Buona hanno partecipato, oltre al prefetto Romildo Tafuri, il presidente della regione Sergio Chiamparino, gli assessori Alberto Valmaggia e Giuseppina De Santis, il commissario straordinario per il terzo valico Iolanda Romano, gli assessori comunali e provinciali di Alessandria Claudio Lombardi ed Enrico Mazzoni. Chiamparino ha sottolineato come si stia lavorando insieme per garantire il massimo dell'attenzione per il conferimento dei detriti, che, ha detto, non sono classificati tra i rifiuti speciali. Il ritiro dell'ordinanza del sindaco, ha aggiunto ancora il governatore del Piemonte, è dovuto al fatto che sono decaduti i motivi di preoccupazione dopo l'effettuazione di tutti i controlli. Certo è che il provvedimento di Rita Rossa è comunque servito a dare un segnale in un momento di emergenza come l'evento alluvionale che ha interessato la cava Alessandrina, ma se dal punto di vista tecnico i chiarimenti sono arrivati tutti, lo spostamento dell'osservatorio ambientale del terzo valico ad Alessandria ancora latita. Il tutto è collegabile alle vicende giudiziarie che hanno travolto il COCIP, l'ente che avrebbe dovuto gestire con trasparenza i lavori della grande opera e la cui procedura di commissariamento è ancora avvolta dalla nebbia. Intanto, gli oppositori del terzo valico continuano a dire no allo smarino nelle cave e lamentano il modus operandi di verificare cosa trasportano i camion nei cantieri. Controlli a campione dicono che non tranquillizzano la popolazione. All'ARPA, si legge in una nota degli attivisti, spiegano che fermare ogni camion sino a 300 al giorno sarebbe impossibile, oltre che irragionevole. Finora sono stati fatti circa 200 campionamenti e non c'è nulla da dichiarare. La battaglia continua.